Siamo sotto la Sagrada Famiglia Da quanti anni stanno costruendo la Sagrada Famiglia? Ti diamo alcune possibilità 10 26 52 105 105 O più di 140 Invece era 105 Non hai vinto la maglia No, più di 140 L'ultima volta che l'ho sentito era così Magari adesso sono meno Sono diminuiti Molto bene Quante sono le colonne pallal Le colonne importanti E che cosa rappresentano? Che cosa rappresentano pallal? Guarda che qui abbiamo delle telecamere Delle telecamere importanti Guarda, non c'è più di 160 Che cazzo devi fare? Come parto a palliare la porta? Non è la luce del suono che mi dà fastidio Eh, dovresti essere dall'altra parte Eh, beh... Andiamo una... Aspetta che secondo me non la prende bene Ah, aspetta Ah, adesso c'è anche la porta, va bene Scattare un po' perché viene sempre una buona Sta bruttissima Aspetta, aspetta Cosa stai facendo? La panoramica Ti rovira a parte brutta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tocco vicino Fa farla vedere una... Guarda, mi piace questa Ho visto solo questa Mi piace già Siamo a te l'unica vita Ma come? Ok, ne hai fatta No, ne hai fatta veramente solo una È chiaro che ne hai fatta solo una Aspetta Però ce ne sono delle altre di nuove O no? Come delle altre di nuove? Ce ne sono delle altre di nuove? Eh, parla Sono delle altre di nuove Ti serve i vuoi Tra l'altro che c'è la fotocamera a panna Vuoi solo la contro... La contro luce Ma la smetti Giglio È un sacco divertente Un sacco Ho anche il 27% di batteria 20? 4 Ma Qui abbiamo un frese selvatico Lassiamogli una pokeball